Io ho portato un aiutante, Lorenzo. Qua tu sei il capo, io sono l'ordine. Il capo? Non sono messa da capo in vita mia. C'è sempre una prima volta. Io come potrei chiamarti? Io sono un ragazzo. Gli ultimi tre anni li ho passati in carcere per rapido. Adesso vivo da cinque mesi sotto sorveglianza. E la verità è che a stare con te me l'ho dimenticato di tutto. Mi ha solo invitarti a una festa. Che lo sai, la sera non posso uscire. Mi l'ho dimenticata. E' carino, mi direi che quando pensi in me non pensi a un tizio della sua casa. Ti senti una cosa in cui ti pensi. Mi sarebbe l'unico. Anche se la festa è meglio. Beh sì, stai con te. Caccia luce, c'è solo un vecchio computer su cui devo scrivere o tu mi scacchi. Scrivere a nessun bravo. Se hai qualche partita devi soffrire. Ehi perché ti piaccio. Se non devo dire una schermata. Sì, perché se no poi mi guardi negli occhi e mi imbarazzo. Perché non sei vero. Mi fai innamorato. No, che mi ha innamorato. No, no. No. Non sei buono. Non sei una persona speciale. Io penso che non ci sia nessun altro posto dove vorrei stare ora. No, no. No, no. No. No.